Con Enzo Belloni, che mi ha preceduto nel ruolo di Assessore al turismo della città, quindi conosce bene tutti gli ambiti di cui siamo andati a parlare, di cui ci stiamo occupando, affrontiamo ora quanto già lanciato prima dal Sindaco nella sua relazione introduttiva, ovvero le opportunità che dal recovery fund e quindi dal plan che ne seguirà potranno essere messe a disposizione del turismo, ma in generale un po' anche quella che è la strategia di interventi emersa recentemente, poi ne parleremo anche nell'ultimo incontro con l'Assemblea degli albergatori, ovvero di possibili interventi per quello che riguarda la zona di Levante e in generale un po' tutto quello che in questi ultimi mesi è stato messo in campo in particolar modo sulla zona mare, la scelta del parcheggio rispetto a Via Trieste, gli interventi che hanno permesso di arrivare in questa direzione, siamo nell'anno buono, ci auguriamo, Enzo sta lavorando all'accremente su questo, anche del Palascavolini in chiave turistica, sarà veramente una svolta per la città e abbiamo individuato come elementi prioritari su cui lavorare, sulla zona di Levante appunto sia un progetto di una piazzetta che ci verrà poi illustrato da Enzo rispetto al largo dell'annunzio e anche un po' un sogno che però potrebbe entrare nelle dinamiche, i numeri del recovery per un'infrastruttura invece più importante che possa collegare ancora meglio il resto della città con la zona di Levante che ora soffre del fatto di avere meno aree pubbliche, che ha meno spazi pubblici, insomma è fortemente sia residenziale che turistica, ma non ha tanti spazi di sfogo per le attività che invece potrebbe ovviamente legarsi ad altri interventi. Come diceva anche il Sindaco, ovviamente la prospettiva di lavoro anche per il tavolo economico nelle prossime settimane sarà quella di seguire tutto lo sviluppo del ragionamento attorno al recovery, quindi dal tema della Fanurbino come si diceva, anche il tema ovviamente della ferrovia Fanurbino ma anche del collegamento ciclabile che ne può seguire, ma anche del collegamento invece stradale Pesaro-Urbino ovviamente con un occhio anche quello che è un altro sogno ma che sembra quasi alla portata ora dell'allattamento della ferrovia perché in termini di lungomare ovviamente cambierebbe anche qui il volto della città. Quindi chiederei a Enzo una panoramica e un flash specifico magari sugli elementi che abbiamo citato. Buongiorno a tutti, innanzitutto partirei dal vecchio Palazzo dello Sport, il Palazzo Cavolini che con gli impiegni che ci siamo presi con il Sindaco, con l'azienda che sta facendo i lavori il 30 giugno potrebbe già vedere la luce. È un asse strategico di collegamento centro-mare, un impianto da 1900 posti che diventa importantissimo sia per il turismo sportivo, per quello congressuale, per i concerti, per Pesaro-Città della Musica che soprattutto riporterà il Rossini Opera Festival in un contesto cittadino. Non che l'Adriatica Arena abbia, la Vitriferigo Arena abbia niente di meno di altri impianti però vivere il ROF all'interno della città è sicuramente un risultato importante per questa amministrazione. Quest'anno abbiamo sperimentato la pedonalizzazione di Viale Trieste, devo dire con buoni risultati nonostante ci siano in qualche modo valutazioni differenti da parte di alcuni però complessivamente ha funzionato. Ha funzionato grazie al lavoro che abbiamo fatto assieme ad IMS sul parcheggio di Villa Marina zona nella quale assieme ad Aspes dovremmo pensare di intervenire per rendere strutturale la parte nord di Viale Trieste e prevedere un progetto importante. Stiamo lavorando insieme a Daniele, assieme al Sindaco, ora sulla parte sud di Viale Trieste è una richiesta che ci arriva forte sia dai cittadini che dagli albergatori è anche un obiettivo nostro quello di riuscire a sviluppare un progetto importante. Il primo può partire da una visione differente di piazzale d'annunzio che potrebbe diventare il contraltare alla piazzale della libertà, la famosa palla di pomodoro per capire quello che si può fare. È un progetto che possiamo vedere su due fronti uno prettamente di arredo urbano, quindi rivisitare quella che è la parte stradale del piazzale con una visione differente della ciclabile che non fa più una mezzaluna ma taglia diritto e dà la possibilità alle attività commerciali di sviluppare la sua attività all'esterno di creare per noi un polo attrattivo e di spettacolo e di aggregazione in qualche modo ma il progetto più ambizioso è quello di provare a progettare un preliminare diciamo ce l'abbiamo già, un'area parcheggio sotterranea che darà la possibilità, secondo i calcoli che abbiamo, a circa 85 auto di trovare collocazione sotto l'asse stradale. Questo intervento ovviamente deve essere un intervento che assieme ad Aspes e Pesaro Parcheggi dovremmo in qualche modo condividere e provare a portare a casa e realizzare. Ovviamente è un investimento importante che potrebbe prevedere anche la realizzazione di 40 box che possono essere venduti mentre gli altri 45-50 posti a disposizione a rotazione per chi viene in città in estate o vuol farci una semplice passeggiata. L'obiettivo altro che abbiamo in mente e con il quale stiamo ragionando e lavorando già da tempo è la riqualificazione dell'asse sulgenica, quello sul tratto tra l'hotel Spiaggia e l'hotel Majestic. Anche questa è una richiesta che arriva forte da parte dell'Associazione del Bergatori. Il progetto che abbiamo valutato, sul quale stiamo ragionando, è un progetto che c'era stato presentato da un gruppo di insegnanti del Bramante Genga, coadjuvati dai ragazzi. Quindi un progetto che ha una visione moderna, giovane e che ci dà una prospettiva che non parte solamente dalla zona mare e dal viale Trieste e si ferma lì, ma ha una visione importante e vuole arrivare fino alla zona di Muraglia per capirsi. Questo intervento prevederebbe in qualche modo la copertura, mantenendo la sicurezza dal punto di vista idrogeologico dell'area, una copertura e al di sopra di questa copertura prevedere spazi di aggregazione, spazi per l'accoglienza, aree verdi. Il nostro sogno, visto che siamo città della bicicletta, è anche ipotizzare un collegamento ciclabile dove è possibile che ci porti dal lungomare a attraversare la statale e arrivare nella prima periferia della città. Abbiamo una grande opportunità che ci arriva dal recovery, quindi dovremo essere pronti ad affrontarla, a metterci energie, risorse e soprattutto idee. Ripeto, il fatto di esserci confrontati in qualche modo con un gruppo di giovani, ovviamente coordinati da insegnanti esperti e qualificati, ci dà la possibilità di avere una visione moderna di quello che sarà la parte sud del lungomare. Ovviamente le difficoltà nel lavorare su un torrente sono tantissime, perché dal punto di vista della carta ne dobbiamo produrre moltissime, avere un sacco di autorizzazioni, però l'obiettivo di questi da qui ai prossimi due o tre anni è quello di sviluppare un progetto funzionale per il turismo e per la città e soprattutto non fermarci la carta, ma andare avanti con i lavori. Grazie Enzo. Nel frattempo, mentre chiedo alla regia di fare ripassare, perché ce l'eravamo persa anche l'immagine del lavoro su piazza d'annunzio, l'immagine è quella esatta. Così Enzo magari può spiegare meglio anche le viabilità, quelli sono le ipotesi. L'ipotesi, se noi pensiamo alla sistemazione solamente dalla parte superiore, diciamo un intervento abbastanza semplice. Il lato mare noi lo prevederemo per dare la possibilità alle attività commerciali di sviluppare i loro servizi anche all'esterno, di allargarsi. Magari il quarto più a sud del piazzale può avere una destinazione dal punto di vista dell'accoglienza turistica, quindi magari pensare al palco, pensare a un'area spettacoli e non limitarsi e non fermarsi ad utilizzare il piazzale della libertà. A questo punto l'acciclabile dovrebbe subire, quindi la viabilità stessa, un piccolo cambiamento. Praticamente non farà più il giro verso il mare, ma dovrà proseguire in linea retta, diritta, quindi anche più agevole dal punto di vista della percorribilità. Sul lato opposto, quindi sul lato del piazzale, verso la città, quindi verso Via Verdi, per chi abita a Pesaro e conosce la zona, comunque garantire la viabilità, sviluppare aree verdi, sviluppare un'area oppure sviluppare un'area sosta in superficie. Questo intervento qui rispetto alla realizzazione del parcheggio sotterraneo potrebbe essere un'operazione che possiamo concretizzare nel giro di pochi mesi perché non richiede particolari autorizzazioni e particolari interventi. Ci porterà a rimuovere la rotatoria, a rivedere in qualche modo l'illuminazione e a pensare ad un arredo urbano che sia appetibile e funzionale. I due progetti che abbiamo in campo hanno tempi di realizzazione e costi differenti. Adesso la parte politica in qualche modo ci dovrà confrontare e valutare quale delle due strade percorrere. Grazie Enzo, chiaramente un tavolo dedicato a questo permetterà anche di sviluppare il ragionamento rispetto alle priorità e come procedere, però è chiaro che avere un primo intervento su cui agire del piazzale è l'altro che è molto più impegnativo ma è anche modulare, quindi l'obiettivo sarebbe quello di iniziare dalla zona mare, dal tratto in cui sfocia i geni che è quello che diciamo dal punto di vista estetico può creare più problemi quindi magari far diventare immediatamente come primo step quello il primo troncone di collegamento con la prima traversa e quindi diventare un progetto, una priorità del recovery del nostro territorio, come diceva anche prima il sindaco.